La macro regione adriatica è uno strumento per includere successivamente nella comunità europea alcune regioni, alcune nazioni dell'adriatico, dell'altro lato dell'adriatico e serve praticamente a conformare i comportamenti, le buone pratiche imprenditoriali. Credo che sia un esperimento positivo e la nostra regione insieme alle altre dell'area ionico e adriatica daranno il loro contributo. Ma oltre questo noi dobbiamo parlare della internazionalizzazione delle nostre imprese. Oggi c'è necessità di aggredire quei mercati opulenti che possono spendere. Il Made in Italy è produzione di qualità, la Puglia produce qualità ad ogni livello, quindi noi dobbiamo fare in modo che queste nostre capacità vengano esportate. Oggi ci chiedono di riorganizzare il settore della internazionalizzazione e quindi aiutare e sostenere le piccole imprese allo sviluppo del proprio commercio con l'estero. È fondamentale, gli strumenti ci sono, bisogna cambiare in Puglia per riportare le aziende al centro dell'attenzione dell'economia.